Ho sempre detto che Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, è stato il Papa della mia vita. È stato eletto infatti quando io ero poco più che un bambino ed è morto quando ero già ben dentro la mia età adulta. Quindi, quando sono cresciuto, la figura del Papa era incarnata da questo uomo polacco, pieno di vigore e di zelo apostolico. Fu per me, quindi, una grande emozione sapere che avrei potuto vedere il Papa di persona e anche relativamente da vicino. Questo doveva avvenire il 27 aprile 1980, visto che dopo un rinvio che c'era stato, per quella data era fissata la sua visita pastorale alla mia parrocchia, la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Ho detto che io avrei potuto vedere da molto vicino il Papa, in quanto facevo parte del gruppo dei Chierichetti e pensavo di potergli servire la messa. In realtà, poi, alla fine, ci sistemarono ai piedi dell'altare maggiore, vestiti di tutto punto, mentre il servizio liturgico era assicurato da qualcun altro. Forse mi pare di ricordare che ci rimanemmo tutti noi un poco male, ma eravamo comunque abbastanza vicini per poterlo vedere. Il Papa, durante l'Omelia, parlò di varie cose, tra cui la sua familiarità con il quartiere di Trastevere e delle sue frequenti visite alla nostra bellissima Basilica nel passato. Si rivolse anche a noi giovani, dicendo «Un saluto del tutto speciale va ai giovani, ai ragazzi e ai bambini, speranza della parrocchia. Ad essi desidero esprimere in questa occasione il mio incoraggiamento e l'auspicio che sappiano guardare al futuro, preparandosi ad esso con impegno e serenità per essere esemplari cristiani ed integerrimi cittadini». «Poi, dopo la messa, ci salutò tutti nell'oratorio. Ricordo che mi diede la mano mentre guardava il prossimo da salutare. Cercava di salutare tutti in modo che ognuno potesse ricordare quell'incontro come qualcosa di molto speciale. Poi, in futuro, vedrò molte volte Giovanni Paolo II nel corso degli anni e quando sarai divenuto organista incaricato per l'udienza settimanale del mercoledì, mi capiterà di vederlo ogni settimana. Certo, però, quel primo incontro del 1980 ebbe un sapore del tutto speciale e rimane per sempre fissato nella mia memoria».